Lasciati andare, è piacevole rilassarsi. Se ti sorprendi a rimuginare pensieri negativi e assillanti, prova a dirti basta, basta rimuginare. In tono amichevole, affettuoso, senza arrabbiarti e soprattutto senza giudicarti. Prendi le distanze dal tuo rimuginare, concentrandoti sul respiro. Prova a parlare a te stesso in modo più incoraggiante. Ripeti a te stesso che ce la farai. Fidati della tua capacità di far fronte alla situazione. Orienta la tua energia in una direzione positiva. Interrogati su cosa per te, in questo momento, valga la pena di essere vissuto. Senza fermarti alle prime risposte negative. Continua, fino a quando ti verrà in mente qualcosa. C'è sicuramente qualcosa che vale per te. Qualcosa che vuoi dalla vita, ora, indipendentemente da ciò che è stato e da ciò che gli altri si aspettano da te. Evita di fare propositi in modo generico. Ad esempio, vorrei stare meglio. E' troppo impreciso. Domandati, in che campo posso trovare qualcosa che mi può far stare meglio. E mano a mano che arrivano le risposte, rendile sempre più specifiche. E' in modo più sicuro di realizzare il tuo proposito. Se pensi di investire di più nel lavoro, o di cercartene uno, vedi concretamente che cosa puoi fare. E lo stesso vale in ogni campo, nei rapporti con gli altri, come nel tempo libero. Pensa a dei tempi di realizzazione. A delle scadenze da rispettare. Comincia col fare almeno un rilassamento tutti i giorni. Pensa a qualcosa che sia realizzabile da te, in prima persona, senza paura di fantasticare. Da un'idea assurda, può venirne un'altra, perfettamente realistica. Ogni giorno, quando arriva la sera, e i pensieri negativi si affollano nella mente, Concentrati sul respiro. Osserva l'aria che entra e che esce dal naso. La pancia che si alza e si abbassa. Se vuoi facilitare la tua attenzione, puoi contare fino a tre durante l'inspirazione. E fino a sei durante l'espirazione. Proviamo insieme. Inspiri, contando fino a tre. Uno, due, tre. Espiri, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. E mentre ti rilassi, pensa a tutte le cose gratificanti della giornata, anche se sono piccole, come l'acqua calda della doccia, che scorre piacevolmente sulla tua pelle. Il sole che splende attraverso la finestra. Gli attimi di sollievo che hai percepito. I tuoi miglioramenti inaspettati.